Io non ho fatto parte mai di una squadra governativa, io ho fatto parte della cittadinanza che ha subito per decenni le scelte dei governi, quindi è stato il mio un punto di vista completamente diverso per cui è abbastanza interessante poi ascoltare quelle persone che hanno costruito un po' la storia di questo paese ascoltarle da quest'altra parte e tante volte sollevare delle tematiche che voglio essere schietta i loro stessi governi non hanno risolto, quindi alla fine sento che poi le tematiche sono sempre quelle e vengono trattate a buon bisogno dall'uno e dall'altro, dai vari governi che si susseguono. Per quello che riguarda i talk show voglio fare una battuta che se c'è qualcuno che è un movimento politico che è stato avverso ai talk show e siamo stati anche criticati moltissimo per questo, è proprio il nostro movimento. No, 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 ma era appunto una critica più interna alla mia professione che alla vostra. Assolutamente non è quello l'obiettivo, anche perché di problemi da risolvere ce ne sono tanti. Per quello che riguarda le proposte, intanto io mi congratulo moltissimo per l'immenso lavoro che è stato fatto e che verrà esaminato in maniera attentissima perché è molto ben fatto e analitico. Io prima sfogliavo questo libro e già trovo degli spunti molto interessanti. Ho aperto una pagina a caso e ho letto una proposta, per esempio, relativa alla depenalizzazione di versamenti di tributi nel caso in cui ci siano dei crediti che le aziende o i professionisti, comunque i contribuenti, hanno nei confronti dello Stato. Ecco, proprio quello è un provvedimento che grazie al Movimento 5 Stelle è diventato legge dello Stato. La compensazione delle cartelle esattoriali, ovviamente con una foggia diversa, ma il concetto di compensazione ed anzi la generalizzazione che si dovrebbe avere nella compensazione dei crediti e dei debiti nei confronti dell'erario è assolutamente un nostro cavallo di battaglia. È assurdo che uno Stato che ti deve dei soldi, ricordiamolo, che questi soldi dovevano essere già stati tutti evasi dallo Stato, già stati tutti incassati dalle imprese il giorno di San Matteo, non di quest'anno, dell'anno precedente, e a tutt'oggi abbiamo un numero di circa 80 miliardi, e ancora non ben definito comunque, di crediti che le aziende vantano nei confronti dell'erario, ancora che sono lì in piedi. Ecco, è assurdo che quando ci sono queste partite di bilancio, dall'altra parte, lo stesso Stato ti chieda il pagamento delle imposte e a volte ponga, attraverso il meccanismo esattoriale, metta in difficoltà le aziende, soprattutto in crisi, che possono avere delle crisi di liquidità, proprio perché hanno dei crediti non ancora riscossi. Quindi questo è uno spunto importante, ma che ho aperto così, leggendo, ho aperto una pagina a casa e ho trovato questo. Ce ne sono sicuramente tantissimi, noi abbiamo una proposta di legge, per esempio, sui minimi, perché la legge di stabilità, e qui mi ricollego alla legge di stabilità, fortunatamente non ha fatto lo sconcio, non ha proposto lo sconcio dell'anno scorso per quello che riguarda i minimi, perché si era previsto addirittura che già per i primi 5 anni le aliquote potessero aumentare, addirittura triplicare talvolta. E proprio per i commercialisti c'erano delle situazioni relativamente ai minimi che prevedevano un fatturato minimale, ridicolo, per entrare nel regime agevolato. Noi abbiamo una proposta per le piccole partite IVA, sotto i 40.000 euro di fatturato, molto semplice. Invece di passare alla fine del quinto anno di attività dal 5% all'aliquota ordinaria, mantenere le piccole realtà professionali o imprenditoriali ad un'aliquota unica del 15%. Se una realtà è piccola, non può passare improvvisamente dal 5% all'aliquota ordinaria, perché lì abbiamo registrato una vera e propria moria delle partite IVA, nel momento in cui c'è questo salto. Quindi quello è un punto, secondo me, fiscalmente congetturato male. Se un'impresa è debole, il 31-12 di un anno, non può a quel punto diventare improvvisamente forte, e quindi sottoporsi a una tassazione ordinaria il giorno dopo dell'anno successivo. Quindi il discorso della compensazione dei tributi, il discorso di una particolare attenzione alle partite IVA di piccole dimensioni, in questo senso, è un altro discorso che abbiamo sempre portato avanti. L'IVA per cassa generalizzata, anche qui la liquidità è un problema per le aziende, è un problema per le partite IVA, e quindi occorrerebbe che finalmente lo Stato, anche lì, si rendesse conto di perfezionare il proprio credito nel momento in cui il contribuente ha effettiva liquidità a disposizione. Per quello che riguarda gli altri temi della delega fiscale, avevamo sollevato anche il tema dell'IRAP, che presupponeva la definizione finalmente di autonoma organizzazione, che però non è stata completata, non è stata affrontata a livello di decreti delegati. Anche quello spiace perché l'IRAP è un'imposta che deve essere eliminata e che è particolarmente pesante per le piccole partite IVA e nel caso anche dei professionisti, il fatto che ancora non sia ben identificata la soggettività passiva ai fini IRAP è veramente un grande vulnus. E quindi noi avevamo fatto mettere proprio nel testo della delega questa condizione, questo adempimento da parte del governo che poi non è stato seguito successivamente, come dicevo, nei decreti delegati. Questi sono alcuni spunti. Un altro spunto importante, e su questo ne ho parlato anche, e penso sia d'accordo, anche il sottosegretario Zanetti, il discorso di elevare i diritti dello Statuto del Contribuente al rango di diritti costituzionali. Perché questo renderebbe il dovere dello Stato di certezza nella definizione dei tributi un dovere costituzionale. Perdere tempo per una riforma del Senato mal fatta è un peccato quando invece si potrebbe migliorare la Costituzione attraverso un provvedimento di questo genere. Io ho fatto una panoramica generale, non voglio annoiarvi, quindi se avete ulteriori domande, quello che è la nostra posizione, proprio perché non dimentichiamo mai la sensazione e la vita, perché la vita quotidiana di chi sta dall'altra parte, anche io sono commercialista, anche se il fisco, come dicevo, l'ho visto un po' sotto vari punti di vista, perché poi ho fatto revisione contabile, poi sono stata, ho fatto tanti anni di controllo di gestione, e poi altri anni, quasi dieci anni in agenzia delle entrate, quindi diciamo che il fisco l'ho visto a 360 gradi, poi mi avete visto spuntare in Commissione Finanza e non sapete più da dove devo uscire per quello che riguarda il fisco. Quindi proprio per questo, proprio perché non dimentichiamo le istanze di chi combatte quotidianamente, la nostra porta per ascoltare le persone che stanno sul campo è sempre aperta e traduciamo le istanze in atti parlamentari e quindi la parola è ancora di più a voi che quotidianamente potete darci dei suggerimenti come nel vostro libro, sicuramente estremamente interessante. Grazie. Grazie, grazie onorevole Ruocco, diciamo che ha sfruttato un po', ma non troppo, il suo ruolo di opposizione è interessante, torna questa proposta di elevare lo statuto del contribuente al rango costituzionale, una cosa che giustamente è da mettere sul tavolo, poi però sarebbe bello anche che il sistema si accontentasse anche di rispettare una norma ordinaria, diciamo anche prima di trasformarla in norma costituzionale. No, no, ma lo dico per il sistema, capisci? Sì, però voglio precisare che ovviamente chi mi ascolta e lei per primo lo sa bene che nel momento in cui ci dovesse essere una violazione della Costituzione noi abbiamo una Corte Costituzionale che può sancirlo, quindi è ben diverso rispetto a quando un governo tramite un decreto legge d'urgenza bypassa una legge ordinaria, perché lì purtroppo non abbiamo nessuna tutela. Diciamo l'auspicio è che appunto, come dire, anche senza il Doberman dietro al cancello si eviti di cercare di scavalcare quel cancello, ecco, questo è un auspicio in un mondo ordinato, diciamo basterebbe. Grazie a tutti.